La servitura in tessuto triangolare EvoTripod è realizzata con due spondine laterali, la rete microforata e la parte frontale morbida in modo da poterla chiudere ed inserire nel proprio codero o nel cassettone. È possibile applicarla a qualunque tripode grazie alle fascette angolari a stretch. Semplicemente si inserisce e si applica al tripode in questo modo. Creando una servitura comoda all'interno delle tre gambe. Ora andiamo a vedere la particolarità però della servitura EvoTripod. Sul nostro EvoTripod o su tutti i treppiedi e i tripodi che abbiano un angolare e due gambe da 16 mm come altri modelli in commercio al quale possiamo mettere il nostro bloccagambe possiamo applicare la modifica, i braccietti lunghi in alluminio del bloccagambe. Si sganciano i modelli base, quelli che lavorano alti e corti, e si agganciano i braccietti lunghi in alluminio. Facciamo scendere il bloccagambe fino a portarlo in piano. E voilà. Come detto alla servitura è possibile applicarla a qualunque tripode utilizzando le fascette oppure applicarla sul nostro EvoTripod in modo più stabile utilizzando gli stretch perimetrali che vanno ad abbracciare i braccietti lunghi del bloccagambe. Uno e due. nessuno ci vieta poi di ancorarla in modo migliore anche utilizzando le fascette in dotazione. fondo in rete, frontale col brand, laterali rigidi in plastica, braccetti interni in alluminio e disponibile nei colori EvoTripod. Quindi con rifiniture blu, orange, red, black e verde. e e e Grazie a tutti.